Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto. Oggi voglio presentare questo fantastico Audi Q3 2000 turbodiesel 150 cavalli, cambio automatico S-tronico, il pacchetto S-Line, vettura grigio scuro metallizzato del 2017 con solo 65.000 km, veramente una macchina spaziale, veramente molto molto bella. Fari full LED anteriori e posteriori, ruote da 18, pacchetto S-Line esterno, guardate che bello, pacchetto cromature, barre cromate, macchina che ha di tutto, di più, anche i fanali posteriori a LED, fantastici, guardate, macchina molto molto bella. Interni sportivi, guardate, sedili sportivi, regolazione non bar elettrica, macchina che è veramente un sogno. del 2017, guardate che bello. Andiamo a aprire il bagagliaio posteriore, elettrico. Sotto abbiamo anche il subwoofer, perché la macchina è dotata di sistema Audi Sound System. Andiamo a vedere la parte anteriore a destra. Parte posteriore a destra. ruote da 18, frecce dinamiche, ovviamente. Andiamo a vedere gli interni. Eccola qua! 65.000 km, il keyless per l'avviamento. Poi abbiamo volante multifunzione, fare automatici, sensori parcheggio avanti e dietro, vedete. Poi abbiamo il navigatore, il bluetooth. E poi abbiamo, come vedete, l'Audi Sound System, vedete? Qua subwoofer, bassi e alti, il DSP che praticamente sarebbe l'amplificatore. Poi abbiamo anche l'Audi Drive Select, quindi in versione dinamica Auto Comfort Efficiency. Climatizzatore automatico e bizona, sedili riscaldati. Una macchina molto, molto completa. Questa vettura noi ve la proponiamo con 36 mesi di garanzia, col tagliando fatto agli tutti i filtri, con le doppie chiavi, tappetini in gomma, libretto di istruzione in italiano, lucidatura esterna e sanificazione interna. Venite a vedere la Bianco Auto a Motta di Costigliole d'Asti, il numero di telefono è 0141 96 92 14, l'e-mail è info-biancoauto.it e il whatsapp è 345 060 86 80. Ciao a tutti e alla prossima.